Abbiamo trovato un Presidente del Consiglio incaricato in ottima forma, non da settimana pasquale. L'ipotesi attorno alla quale stiamo lavorando e sta lavorando soprattutto il Presidente incaricato, Bersani, è quella di due vie maestre, una via maestra che riguarda la Costituzione del Governo, un Governo di cambiamento e aperto a eccellenze e la seconda quella di una sorta di convenzione che noi possiamo definire, ci piace definire di natura costituzionale, coinvolgente l'intero Parlamento e quindi senza nessuna forma di barriera che lavori sulla seconda parte della Costituzione lasciando in tonso il titolo primo, quindi la parte che riguarda i valori, i principi fondamentali sui quali si regge la Repubblica Italiana. È un percorso condiviso, è un percorso che a suo tempo anche noi suggerimmo, aperto all'intero Parlamento e che potrebbe serbare una buona soluzione alla crisi che si è aperta e consentire all'Italia quello di cui ha necessità, cioè un Governo che si fondi su priorità rilevanti e che serva a trarre l'Italia da una straordinaria fragilità. Buona giornata, buon lavoro.